Siamo su Monte Albano, ora si fa la fortezza. Dov'è Samuele? Si fa la fortezza e il mitico Papini ci ha dato da provare la Levo SL. Allora come ci si sente su questa bici, questa bici rispetto alla Kenevo è una bici normale. Bomba, super agile e stabile anche, forse è 29, forse è una L. Viscolina. Viscina. 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 Ah! Sì Sì Sì